ricezione di Begic e parrocchiale che deve palleggiare per la bosniaca che attacco in diagonale stretto da parte di Edina Begic traiettoria a Bosetti, Hancock cambia corsia, il muro ancora di Monza con Edina Begic e Dani Bismajek 4 a 0 difeso da Hancock, allora Sansonna in bagger per il pallonetto di Caterina Bosetti ricostruzione allora per la Saugella con Edina Begic non passa Smajek, allora un'altra occasione per Monza Begic a segno sempre su Ortman, Oro deve correre e vada Edina Begic trova l'attacco vincente